Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione FIPILI. In A1 stanotte, in orario 21.06, sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'A1 panoramica La Quercia e Aglio in direzione Roma. Sulla FIPILI da domani fino al 31 marzo per lavori sarà chiusa la rampa d'uscita dello svincolo di Stagno in direzione Firenze nel ramo di Livorno dalle 7 fino alle 18. Infine per gli aerei il volo Airdolomiti-Lufthansa da Monaco di Baviera atteso a Firenze alle 21.10 è stato cancellato. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!